Nella lunga lo schiacciatore di questa Sir Safety Conal Perugia che oggi ha fatto una prestazione sicuramente concreta contro un Zora ultimo in classifica che comunque non era rendevole e nel secondo set ci ha messo veramente tutto quello che poteva avere in corpo per mettere in difficoltà Perugia ma oggi la concentrazione non è mancata. Non sapevo fossero ultimi in classifica in realtà hanno vinto i quarti di ottavi di finale con Verona io adesso non guardo molto spesso la classifica pensavo fossero più su sono una squadra che non gioca male oggi siamo stati bravi come tu concentrati a parte il secondo set dove hanno iniziato bene loro e nonostante 4-5 punti di vantaggio in inizio set siamo riusciti poi a riprenderli a vincere anche leggevolmente no perché 25-23 abbiamo finito però no niente è importante vincere in casa contro una squadra sulla carta inferiore quindi bene. Adesso dobbiamo pensare a Ravenna che sarà una partita secondo me più difficile dato che giochiamo in casa loro col palazzetto pieno e stanno vincendo penso contro Modena quindi non sarà una partita facile l'abbiamo già incontrato nell'andata ci hanno fatto sudare abbiamo incontrato in preparazione ci hanno fatto sudare quindi ecco partita da vincere per riuscire a risicchiare qualcosa ancora davanti se è possibile aumentare il distacco dietro ma non sarà semplice. Si dice sempre che le big devono ancora arrivare le partite quelle importanti però in questa superlega non bisogna mai abbassare la guardia anche oggi contro Sora ci è voluto di ritrovare un po' la battuta ma anche sicuramente il muro perché sono due fondamentali punti importanti che possono fare la differenza sempre. Sì ormai non so chi ascolta le interviste sarà stufo di sentirlo però purtroppo è sacrosanta verità il campione italiano l'ultima può vincere contro la prima chiaramente la prima deve giocare malino e l'ultima bene ma forse è uno dei pochi campionati in cui l'ultima in classifica può vincere contro la prima e è successo tante volte. E quindi ecco questo ormai non c'è più bisogno di dirlo una squadra che deve vincere lo scudetto se affronta una partita con un minimo di disattenzione perde contro chiunque. E quindi ecco quello che ho detto è giustissimo siamo riusciti un attimo a... abbiamo iniziato bene poi il secondo set come hai detto tu un attimo eravamo indietro abbiamo registrato un pochino il muro che comunque la fase break è quella che ti fa recuperare perché se sei sotto bisogna recuperare il sui break. E poi il terzo set è andato via un po' più agevole quindi bene così dai.